Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video del canale Prima di iniziare ci tengo a salutare un iscritto che voleva essere salutato Quindi ciao Nicola10 Il 10 non è che lo dovevo dire ma vabbè ciao Nicola Quindi noi ci becchiamo il video, bella Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video del canale Come potete vedere qua siamo sulle Skywars perché non sapevo cosa fare Sì avevo detto che portavo le TNT Run ma erano vuote Cioè c'erano solo due giocatori quindi non aveva senso Qua ci sono una madonna Niente noi ci vediamo nella partita Ci vediamo dopo Tanto ci sono questi qua che dicono ciao tubo Bella raga Ok ci vediamo in partita Qua la facciamo Iniziamo in Parisi Parisi Ci vediamo dopo che è iniziato Ok ragazzi è iniziata la partita Quindi ho già preso le cose qua Non è una capra Ok Prendiamo La testolina di cosa Non mi ricordo neanche di che cazzo è Abbiamo l'ascia in ferro che non è male ma Comunque Poteva andarsene anche meglio E qua non c'è un cazzo Ok L'armatura Con il coso in diamante La testolina Non so cosa E qua che c'è Che è questo? Ho visto il nome ma Tu dov'è? Eccola Chi è? Intanto stanno venendo da dietro Quindi Ti metti Ti blocco Ho capito Ok Sto qua Meno male che ce l'avevo in team Sennò morivo Tanto ci sono qua i nostri I miei gatti Che stanno litigando Neanche E avessero rubato la pasta Di mangiare Cocane Stanno rampendo i coglioni Oh cazzo Sto per cadere Ok Stanno saltando tutti praticamente Ok targo sta parte Perché C'ho Mal di gola Ovviamente Ok raga Mi sono rilogato Perché mi aveva buttato fuori Per fly Ma vabbè Quindi Andiamo di nuovo Sono queste le sky Sì Ci vediamo quando sono arrivato Dalle sky Ok Sono ritornato Perché mi aveva Chiccato per fly Quindi dove entriamo? Regis Che sì Mi aveva Chiccato Insomma anche scrivere Aveva Non è che mi aveva chiccato Vabbè Sì Andrea Per fly Che bello Che mi chicca per fly Appena stavo vincendo Sì Sono In Aegis E qua Ci abbiamo già un Augusto Che ci farà il culo Vediamo dopo che è iniziato Ok è iniziata Quindi Iniziamo a prendere le cose Tipo l'armatura Piccone Cose Le cose Ok Vediamo anche questo 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 Che in realtà Porco cane Sta già venendo Questo no Mi son bloccato fuori Che coglione che sono Madonna quanto sono Ok Prendiamo questo 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 Le mele Che sono buone Quindi Ci mettiamo questo Questo E questo Adesso andiamo Alla Non fare team Perché Io di solito Non faccio team Ma se volete Faccio team Per me Non cambia niente Dunque Andiamo qua Dove è andato C'erano i blocchi invisibili Adesso What the fuck Dove è andato Che è Grasciato Boh Vabbè Mettiamo Sti blocchi No Hanno ucciso Yoshi C'è Questa Uccidola in due Perché Sennò Ci fa il culo Merda No Muori Ma che cazzo È una macchina Da guerra Questa Prima Ho ucciso Ho ucciso Un team Completo Poi Di 4 Ma dai Vabbè Ok Ok È iniziata La partita Quindi Prendiamo Piccolo Un'arma Mi sono cadute Le patate Ma che cazzo Se ne fotte Ok Prendiamo la spada Le cose Io chiamo le cose Quelle che non mi vengono in mente E quindi Prendiamo anche l'arco Cose Questo Scusate se non parlo tanto Ma Cioè È difficile parlare Mentre gioco Se la mente Quindi ci vediamo Ok Andiamo da Tanto Facciamo cadere lui Perché Sto antipatico Quindi vai via Ok E poi andiamo Da pain Che ci succederà Male Ma Non abbiamo Altro da fare Oh cazzo Che minchia Porco cane Sto per morire Come una merda No Anch'io L'arco E prendilo Che mira di merda Che ho O che l'ho fatto cadere In teoria No Ma prendilo Porco cane Che Cazzo Succede Che mira Del cazzo E vabbè Il colpo Dei ninja Raga Raga Se ci riesco Se riesco A installare Tipo una Mod Di dragon ball Che c'è anche Nel pc Ma E che Hanno Messo Anche Per La versione Pia del gioco Ci faccio Una serie Tipo Se è bella Ovviamente Perché Da Da quello Che ho visto Tipo Guarda Quella del pc Che io La gioco Come un drogato Ma Questi Sono Dettagli Quindi Svottiamo Le geste Ci vedevo Dopo Raga Si è sentito Un gatto Miagolare Non Ecco Cosa Che cazzo Che cazzo Appena Successo Vabbè Ci vediamo dopo Dunque Ragazzi Se il video Vi è piaciuto Lasciate Mi piace Perché Sì Niente Noi ci Pecchiamo Alla prossima Perché sto Entrando in cura Lui Noi ci Pecchiamo Alla prossima Bella Raga Se il video Vi è piaciuto Lasciate Like Iscrivetevi Al canale Condividete Il video A vostri Amici Così Conoscono Il mio Canale Anche se Non è Un gran Che Quindi Scusate Per la Intro Che Mosca Schifosa Non Succederà Mai Più Nella Vita Quindi Noi ci Pecchiamo Il prossimo Video Bella